Io chiedo che concretamente la Regione dica, noi a conclusione di due mesi saranno tre, che dica una data certa, se non arrivano i soldi sbloccati dallo Stato, è la Regione che anticipa e si impegna con le banche, è l'unico modo perché le imprese possano riprendere perché hanno delle certezze, tutto il resto di certezze non ce ne sono e rimarrà sempre il fatto sai che stiamo facendo, stiamo cercando, stiamo trovando in modo dei soldi, ma o c'è un fatto concreto oppure non accadrà mai che si possa ripartire tranquillamente perché dopo questa prima fregatura che ci è voluto un anno, un anno per pagare le cose a lavoro finito e rendito un dato, chi volete che ci scommetta e che metta i soldi non sapendo dopo un fatto concreto a me. Grazie.